ciao a tutti bentornati a termoidraulica rv oggi vediamo insieme due tipologie di filtri pentair quindi filtri everpure la c e la c2 si tratta di filtri con attacqua baionetta il classico filtro che si installa sotto la vella o dentro le macchine per il trattamento acqua un attacqua baionetta standard quindi compatibile con tutte le testate in commercio l'altezza del filtro è di circa 25 cm in entrambi i casi sia per la c e per la c2 quello che cambia è l'interno del filtro parliamo comunque di un filtro pre coat a carbone attivo quindi la parete pre coat serve per abbattere la sedimentazione presente nell'acqua mentre il carbone attivo in polvere serve per migliorare il gusto dell'acqua quindi per trattenere odori e sapori indesiderati e chiaramente anche il cloro partiamo con il filtro everpure a c si tratta come abbiamo detto prima di un pre coat carbone attivo da 0,5 micron la parete pre coat abbatte la sedimentazione appunto fino a 0,5 poi il carbone attivo procede con la filtrazione con la micro filtrazione quindi con l'abbattimento del cloro ha un'autonomia come abbiamo detto di circa 2.800 litri e il flusso è di 1,9 litri minuto attacco baionetta classico passiamo invece al filtro everpure a c2 si tratta di un filtro sempre pre coat sempre carbone attivo l'autonomia di circa 5.600 litri e la portata è di 1,9 litri minuto che cosa cambia rispetto al filtro a c di fatto due cose sostanziali intanto parliamo di un 0,2 micron è un diciamo un upgrade un anno idà prima erano 0,5 adesso l'hanno portato 0,2 micron quindi una capacità filtrante maggiore rispetto al filtro everpure a c e il secondo aspetto da tenere in considerazione è che il carbone attivo è addizionato con ioni d'argento quindi impedisce la proliferazione batterica all'interno del filtro quando magari ci sono dei periodi di inattività e quindi l'acqua deposita e rimane ferma all'interno del filtro applicazioni come abbiamo detto sono dei filtri che possono essere installati sotto la velo della cucina quindi come una microfiltrazione domestica o all'interno di macchine per il trattamento acqua refrigeratori o sistemi di microfiltrazione anche a più stadi per avere qualsiasi ulteriore informazione in merito alla gamma pentere e everpure scriveteci contattateci sui nostri canali social su youtube e visitate il nostro store termidraulica.com dove trovate tutti i prodotti pentere originali io sono pasquale e ci vediamo al prossimo video ciao ciao